Dalla parte che ho scelto da sempre, insieme al Presidente Schifani, perché abbiamo sempre detto che la Calabria e la Sicilia sarebbero state disponibili a cofinanziare in minima parte il ponte sullo stretto, la Sicilia dice di volerlo cofinanziare con un miliardo di euro, se la Sicilia mette un miliardo di euro la Calabria metterà 200 milioni di euro, se mette un miliardo di 300 milioni di euro, come sembrerebbe alla fine, la Calabria metterà 300 milioni di euro. Il ponte sullo stretto è un attrattore di investimenti, se non ci fosse stata la discussione sul ponte sullo stretto, io non avrei avuto i 3 miliardi per la 106, con lotti che si stanno bandendo già, quindi con i lavori che stanno partendo, non avrei avuto la possibilità di spingere per l'elettrificazione della ferrovia ionica, e anche su quello ci saranno bandi che si faranno entro fine anno, soprattutto non avrei avuto, e questa è una novità, la possibilità di aver finanziato il tratto autostradale che Renzi inaugurò nel 2016 ma che non era concluso, quel tratto autostradale che costringe i calabresi e i turisti a code interminabili fra Cosenza e Altilia. Proprio ieri ho avuto assicurazione al Ministero delle Infrastrutture che la mia richiesta di avere circa un miliardo intanto entro il 2025 significa che i primi lavori partiranno ad inizio 2024 e gli altri lavori nel 2025, questo miliardo già mi è stato dato e ci sarà un altro miliardo e mezzo nel prossimo contratto di servizio con ANAS per concludere tutti i tratti autostradali che in Calabria non sono stati conclusi.